Ah 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 C'è un twist Basta, andiamo, ce le lasciamo le interviste e sono utile per questo Esatto, ciao Nome XXGiorgio 21 XXGiorgio Cappello di Baglia Benvenuti nella mia cazzo sissima cameretta Altezza La leggenda dice un metro e mi sa che resterà così ancora per un po' Un metro Zeb 89 Fidanzato Eeeeee No, ancora no, va bene così per ora Sì Sì, però lo darei a camper Figli Inchia, qua devo fare la lista Sì Zeb 89 Che sarebbe mio padre Titolo di studio No, per fortuna Vabbè, sono sincero, eh Diploma scientifico Mike Shosha Cancro Così, uno a caso Sei proprio una fariedda Chi è secondo te il più bastardo dell'Illuminati Crew? Aaaah, questa è una bella domanda per cui si sono rotte amicizie in passato Mike Shosha, rimango dalla mia posizione Murri Sei proprio una fariedda Il porno più bello che hai mai visto su YouTube Minchia, questa è bella Vabbè, a parte il meccanico di Alessio Forse un video di Croix O un video di Farence No cazzo! Zeb 89 contro il ventilatore Cosa invidi all'altro? Mi sta balenando qualcosa in mente La minchia! Non ce l'ho però vorrei farmi una bella quella in petto così Le tre cose principali che guardi in Dio? Vabbè, sono sincero Il culo, gli occhi e il carattere Anche se il carattere non si vede ma ragazzi si sente Quindi lo guardo Guardo il viso e poi le chiave La prima cosa che ti guarda Dio? No! 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 Hai mai rubato? Gli iscritti Si, un fan una volta però non posso dire cos'è Hai mai fumato una canna in compagnia di qualcuno? A volte si Mia mamma, Gesù e la mia ragazza Una cifra La parte migliore del tuo corpo? Le palle però oltre a quello penso alla macchina Sei fedele? No però no Bastardo? Sei innamorato? Ni? Bastardo? Insulta Dio? Te sei minchia! Sei proprio una farietta Hai mai baciato un uomo? Mike Sei il miglior youtuber italiano Tu sei un pelino in imbarazzo però si Ciao bello A me è piaciuto onestamente A lui un po' meno perchè era un po' cringed E' un po' meno che da av